Partiti in questo momento, parte piano Scorfano-Jet Un po' di greppi e la chiusura delle ali che va subito davanti Sturbo in seconda posizione, mentre è partita discretamente bene Poi Sochic, Sofond, che si è ripresa, ma rischia di rimanere al largo l'aglia di Micheleotti La prima curva Soho si è presa parecchio comoda Tutti i sensi 16 di frazione Sochic deve retrocedere ultima, infilata all'interno da tutto il gruppetto Lo fa anche Sanford, che la costringe all'ultima posizione Rallentato in testa Nicola Del Rosso Uno dei potenziali vincitori di giornata Assieme a De Luca, Zorzetto, Alessandra Devidea, Canagli Insomma ce ne sono tanti che hanno più di qualche ingaggio 16-9, lentissimo il tratto di fronte Quintetto in fila indiana Tempo al chilometro che non consentirebbe la qualifica, ma sono cavalli comunque più che validi Cerca ovviamente di portarla a casa con minor spesa possibile Soho di Greppi 17-1 per la curva, poi riallunga volontariamente al passaggio, ma si va molto molto tranquillamente Sturmbo, Scorfano Jet Che vorrebbe venire via, ma Michele Canagli lo tiene ancora per un attimo lì 15-8, c'è stata l'accelerazione Si muove di nuovo Sochic Sofont con Pier Giovanni Michelotto Che troverà adesso l'anticipo di Scorfano Jet E così si va il chilometro di gara Le frazioni 16-1 vengono in coppia Scorfano e Sochic Che ha trovato appunto il figlio di legendary lover K a proporsi E a questo punto sembra abbandonare la lotta Sochic Sofont, riallunga Soho di Greppi 15-5, lo segue sempre bene in corda Sturmbo con Massimo Di Luca che cerca punti classifica Poi filtra bene lo steccato Sanford E siamo con i cavalli prossimi nell'ingresso e indirittura arrivo Si mettono a ventaglio Soho che accelera nel tratto conclusivo 15-3 per l'ultima curva Sturmbo e Scorfano che riguadagna Nel tratto conclusivo Soho di Greppi in vantaggio Scorfano che ha grandi falcate Punisce sul traguardo Una positiva Sturmbo 1-19-2 La media di chi vince Nicola Del Rosso per i colori della scuderia Delton E il training di Sergio Esposito Numericamente dovrebbe essere 4 Soho dei Greppi 1 Scorfano Jet 2 Sturmbo Il probabile e ufficioso ordine arrivo Lina regia in attesa della premiazione del vincitore Che riprenderemo con le telecamere Che riprenderemo con le telecamere